Domani mercoledì 6 marzo gli alunni della scuola Luciana Masciangeli torneranno sui banchi dei MUSP situati nell'ex caserma Battisti. La chiusura era stata disposta con ordinanza sindacale lo scorso 25 febbraio fino a domenica 3 marzo al fine di consentire gli interventi necessari per la messa in sicurezza e le operazioni di manutenzione straordinaria in seguito ai danni causati da forte vento che è imperversato in città nelle scorse settimane. Ieri ed oggi invece le scuole sono rimaste chiuse come da calendario regionale. La sospensione dell'attività didattica nelle ultime 48 ore non è quindi da associare all'ondara di maltempo ma gli interventi di messa in sicurezza sono comunque andati avanti nell'ex caserma Cesare Battisti uno degli edifici più colpiti da forte vento delle scorse settimane e non è ancora finita. Altre operazioni andranno a eseguire nella parte antistante il complesso, la villetta di Viale Mazzini e Necortile mentre domani non sarà fruibile la palestra visto che il forte vento aveva scoperchiato il tetto. Abbiamo dato priorità alle attività didattiche e ci siamo adoperati per riaprire la scuola interviene il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini spiegando che soluzioni per ripristinare il funzionamento della palestra devono ancora essere trovate.